buongiorno esseri musicali un altro esempio di sonorizzazione del passo potrebbe essere con delle maracas e immaginando di saltare nelle pozzangre magari a piedi uniti naturalmente poi con la vostra fantasia inventate tutto quello che volete si può chiedere al bambino di farlo magari non sonorizzato e poi sonorizziamo e così via buone invenzioni alla prossima